Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il power of the nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al post dell'e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di Fortnite ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi regali Let's get it boys Guarda quanto è tutto sfogato tipo effetto playstation regà non gliela faccio, mi fa cagare ragazzi Pulmino è bellissimo Dove si va regà? Shifty Shafts Shifty Shafts e poi andiamo a Tilted dai Io mi vi ho sta casa Eh azzinosa come si chiama in italiano Lazzi non ne ho più palli di te No, no, nel dubbio fai tossanni i boschetti che i funghi Ah ok Ma perché magari a me la foglio non mi piace Perché non me la fai ne va? Sì, quello è vero, da fastidio pure a me che c'ho tutto a basso di dettaglio No, io la odio, tu non hai... Cioè, io se io sparo da qui a... 150 metri con lo scar Mi viene da vomitare L'Ebola Non riesco Abbiamo un... No, non è vero, non abbiamo nessuno mi sa No, è free, è free Ho trovato la nuova pistola a blu Farate Ma quella riesci a usarla tu, quell'arma là? L'ho usata per trollare, non serve a niente Fa cagare Eh, ma non è utile Ah, ok, no, perché pensavo di essere l'unico No, no, all'inizio ho detto Non vedi che figata, fortissima Poi dopo ho detto No, fa cagare Bene, bene, bene Ho la cazza dei costi Lo USP e Barret Ci mette un'ora per ricaricare quell'arma Almeno l'unica cosa che mi piace degli zombie È che tu ammazzandoli ti danno vita e roba varie Lutta e ci può stare Se magari c'hai una partita in cui stai All'anno di merda Non ci può stare, bro Te lo dico, no Mi ti piacciono No Io ti dico L'ultima partita che ho fatto Poi, ma live Ho fatto C'è una patta da 50 Ho fatto 15 kill Ma perché basta che incominci a avere le rift Incominci a killare la lobby È bellissimo Paro senza mirare, Sascha Proprio tipo Spara più velocemente senza mirare Ah, cazzo, ma è sparata meglio È l'amadonna È figa, è figa Ma la dico da ragazzi Che ora distrugge una cosa di legno con un colpo? Non si tratta, non si tratta, non si tratta, non si tratta Non si tratta, non si tratta, non si tratta C'è, il resto anche da giornalmente Si sta cambiando Ma non lo potessi Che cazzo è la prima Mannaggia a me No, sono diventato lento Sono diventato lento Posso portarlo io al rift se vuoi, uno spazio Ma no, ce l'ho anche io No, ce lo teniamo Aspettiamo che arrivano tutti Ora, vogliamo infaccia qualcuno urlando Come delle scimmie Che ne dico? È vero che posso volare? Poi ragazzi, i zombie fanno un casino pazzesco Eh, quella è la cosa brutta Li vedo, stanno al garage Il garage boss Ho fatto il bounce su primo, eh Eccomi bro, arrivo Tu sei il fanatico potente Sono sopra Uno one shot, noccato Madonna ciccio, che cattiveria L'altro dov'era? Qua davanti a me Oddio, c'è il guappabono È qua, è qua Eccolo dietro l'acqua Vai, bari Non ho scappato Madonna, sacca Bobo ti sei attaccato a questo, eh Un aspirapolvere Caputana Ho visto Un fortaporto sotto però Un fortaporto sotto, yeah Cazzo sei i gianco Sono sardo, scimmio Sei i gianco Sei i gianco? Sto per dire stasera cosa Oh, ecco, li stanno volando Dove? Stanno volando qua sotto Sono noi? Sì No, guarda che sto dietro io Ah, l'ho visto, ok Ma tanto non si ferma No no se è fermato abbiamo anche Che altro lagga troppo per i tarni Eh no ma questi ma che cazzo Con la cosa che devi usare Con la cosa che puoi volare E poi che cazzo che ti pare Headshot 61 Sta andando giù Beh lo seguo fagget 70 headshot ma non ci credo Ma questa cazzo ti mi danno Mi ringrazio gli zombie Eh che cazzo Ma poi sta roba che ci stanno più armi Ho scopato C'è gente sulla casa ci sta arrivando da te Fatto noccato ci Porca troia Marza me l'ammazzano così A posto Marzo Ok Torno da ciccio allora Oh tua madre Dove Ma chi è Sto arrivando dove è Dimmi dove è Dimmi dove è Dentro la fabbrica Dentro la fabbrica Ma vieni da me Tanto lui è un coglione No mi ha tirato la grana Chi è guarda Guarda che scaletta No ma è un bidone No ma è un bidone solamente che mi ha trovato là col cecchino Marzo ho perso 50 di vita per te bastardo Mi dite dov'è per fuori che io non lo so Dentro la fabbrica Dentro Mannaggia all'altra fabbrica Sto qua La ha presa nel culo Stompato ma Davanti a te Fa ora a destra Mi cascontesta che dici Ma si Io provo a sparare con la tizera Ah va Ah va Ti gara Tu aspetta Fai Di Di Ok Ah no marzo a me qui è qui è morto è nulla un'altra è qua davanti a me è qua c'è uno davanti al nord est sto ricaricando le armi aspettando voi ok ragazze gente a 75 c'era quella specie di cosa tondo con le con le rocce ok si vedo un cazzo io vabbè sti cazzo andiamo dai state pushando voi perché sono sotto per ciccio è andato cattissimo c'è cattivissimo il cazzo che è successo ciccio di plana 1 in testa cazzo ma quelli 1 quando è serrato è morto praticamente mannaia devi ma che cazzo è questo dietro dietro di noi dietro di noi 35 ma io ragazzi ho ancora sto cosa per volare ancora non l'ho usato volete volare con la cosa il rift che ce l'ho da una vita io vabbè vai venite da me allora allora cerchiamo un pochino la gente la gente la gente mezza sta cazzo di nebbia voglio proprio vedere maltempo eh milano oh ti scrive rekins che sei un traditore sa ai 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 vuoi giocare no ho tiltato contro gli zombie ai 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 rekins è che mi dispiace tu sei bravo a giocare ma come me bra tante volte ho sentito sta cosa oh ma che cazzo sono ero flash gordon cazzo l'ho notato allora è andato ciccio con lanciacazzi uno l'ho battuto qua eh eh uno ha battuto e uno è mezzo morto lo devo curare sotto casa eh sotto casa sta restando eh non mi devo curare arrivo vieni amico arrivo mi sto prendere allora la stanno attaccando ok sono davanti a me la 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 e vai anima e vai tu vai che cazzo te ne frega guarda c'è uno sotto al ponte e uno là curate quello a sinistra va mozza che io la faccia what va vai a cacare oh è vero la safe me l'hanno persa e l'altro dov'è è là è là è là là sotto ok gg gg ma perché cazzo di partire di merda dai so fighe ma quale cazzo so fighe ma perché te te stai a impegnare Cristo Dio andiamo sopra la gente e li muzzicamo mamma mia mi piace troppo calci in faccia planate alla Dodò plano come Dodò sulla gente ma non si ma non si trova una partita decente non si trova plano come Dodò si gli plano nel culo dai ma io me posso buttare addosso alla gente con doppio rocket ma stai scherzando ma vabbè ma tu sei il peggiore vabbè però ho capito dai devo trovare un modo per divertirmi ma che seriamente sei un disagio cazzo col doppio rocket ma si mi piace il rocket che fa che sembra un napoletano rilancia razzi napoletano ma si cazzo ciao ciao Grazie a tutti.